Per parlare di questo più tardi o domani, perché purtroppo oggi sono andata a prendere Natana a scuola per portarlo a casa e mi sono trovata un ladro in casa. Non è stata una giornata abbastanza movimentata, difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro, a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato, Natana ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l'ha avuta la mia tata che si è spaventata tanto. Purtroppo il primo incontro con questo ladro maledetto l'ha fatta la mia tata. Questo personaggio ha cominciato a tirare calci, ad aggredirla, ma grazie a Dio sta bene, non è successo, sta bene, però ci siamo molto spaventati. Quindi Natana ha chiamato subito la polizia e che è arrivata, dopo pochi minuti ho inseguito il ladro urlando e diciamo che l'ho messo all'angolo. La polizia ha catturato questo ladro che è in prigione dove è giusto che sia. Quindi è stata una giornata un pochino dove siamo tutti un po' scombusciolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato. E niente, vi volevo salutare.